Musica 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 Bene ragazzi come anche bentornati in questo nuovo Video di Minecraft Oggi finalmente sulla Pixam Nel terzo o nel quarto episodio Ragazzi perchè mi dimentico sempre in quale episodio Siamo ragazzi oggi siamo da soli perchè E vogliamo fare tante cose come per esempio Griffare la casellata perchè ci sarà una Piccola sorpre- Musica Ma Ma E scusi perchè lei è al computer Non sono al computer Stavo curando i miei pokemon Salve Non è un logo pubblico Ah no è questo che è un logo totalmente privato Come ti permetti a prendere i miei pugni Allora buon tiro Guarda che io ho un martello in rubino Vabbè allora ho paura Ce l'ho rosso io eh stai attento Ok Allora Voglio dare questo bug qua Io sono una persona molto simpatica e cordiale E sai che mi avevano griffato praticamente la casa e tutto quanto il resto Allora ora è il mio turno perchè io vorrei mettere E vorrei andare nelle case degli altri Beh adesso ti seguo Ti seguo Così in mezzo alla casa Ah che carino Oh mio dio Oh mio dio sto griffando a casa di Charlie Cosa faccio? Oh grazie Marco sei in un bloc Ok gli ho messo un healer Marco spingimi Marco spingimi Ok grazie Allora poi aspetta che c'ho il suo legno Aspetta che lo metto io qua Vabbè Charlie Anche l'altro pezzo Marco No l'ho già messo Ma stai laggando te No qua ne manca uno No stai laggando un foto eh Oh mio dio ma c'è Mettilo L'ho messo Ascolta vabbè questa qui è la casa di Charlie Poi andiamo da Martina No ma cosa ne ha messo? È bellissimo Che tenero dai Poi allora vieni qua uomo Qua dentro nell'angolino di Tina Guardami Ma ci sono anche le sedie È vero che figata Quelle gambe attraverso lo schinale Allora qua ci mettiamo un altro bellissimo healer Ok E non lo vedo però Qua tappiamo Andiamo a casa del buon Marcellino Che è qua a fianco Casa di Marcia è casa di Oddio Matteo Matteo dove è? Matteo dove c'è la casa? Io non Matteo dove c'è la? Non lo so Matteo non ha una casa Matteo ha questa sorta di roba Matteo abita qua Ma cos'è quel pokemon enorme uomo? È un boss È un persian boss Che è un leggendario Sì no è un boss Vai abbattilo Che figata Ma con che pokemon lo abbatto? C'ho Rapidash Potrei usare Rapidash Vabbè voglio provarci io dai Provaci fai Vai c'ho un Rapidash Lui è L62 uomo Ce lo puoi fare Cazzo No me distrugge No non ce la faccio Oh però sta prendendo fuoco Eh sì è bruciato Grande Marco Dai persian Non lo vuoi lo picchio anch'io Guarda Lo sto picchiando No me ha ucciso Aspetta aspetta Mi manco pochissimo Oh la combino con Squirtle T'avviso eh Vai Allora No me ha sciottato Sì è morto No è morto per vedere fuoco Non ci credo Non ci credo Nessuno ha preso esperienza È sconfitto un boss Ok Ok No nessuno mi ha dato esperienza No ma che palle No aspetta che oggetti gli ha dato però Mi ha dato il pietra taglio Ok buono pietra taglio Poi pietra lunare Pietra stante Pietra stante anche ottimo Dubbio disco E una pozione Ok guarda ti dico pietra taglio è un'ottima mossa offensiva Pietra stante è un oggetto che vuoi dare a un pokemon color tune Voglio farlo evolvere Ok capito Vabbè eh Io non vorrei fare evolvere Pikachu Vabbè ma Pikachu penso che si possa evolvere soltanto tramite pietra tuono Quindi non Vabbè ci sta Io non ricordo male Vabbè comunque Dobbiamo andare da Marci a griffare Allora questa qua è la base di Matteo Ah Matteo non c'ha una casa c'ha una base No Ok vai Metti Toiti Allora qua Vai Vai piazzato l'healer vai Ok Andiamo a mettere da Marci Ma la casa di Marci è bellissima Io non sono neanche entrato Mica Mai neanche entrato Non so parlare Che bella che è Ehm Dove glielo mettiamo Al secondo piano direi Vai Ok Poi Dove E' un problema eh E' un problema Casimarci Qua Ok vai Via Oh adesso è il primo healer che vedo effettivamente Esatto Io direi andiamo a craftarci il nostro bellissimo PC Buon Tirlos Perché a casa di Tano non si sa dove sia Esatto Tano non ha una casa ragazzi C'è una cosa devastante Hola Hola Allora caro Buon Tirlos Visto che i miei scritti sono delle persone tenere Mi hanno detto che io ho una farm infinita di alluminio E io ti vedo che laghi intanto Allora voglio vedere Non senti tu che laghi io sono appostissimo Quanto alluminio ho Vediamo un attimino Perché Guarda che se hai bisogno di alluminio te lo presto eh No vabbè tranquillo uomo Vorrei proprio capire sta roba qua della farm infinita Perché se spacchio Scusa se io piazzo un healer E lo rompo Sì Sì Mi da Solo un pezzo Un alluminio plate Una piastra di alluminio Cioè io seriamente Se faccio sta roba C'ho gli alluminio infiniti Ma a me A me sia molto di cheating Ma è Posso dirtelo? Io infatti la voglio buttare sta roba È molto brutta come roba Però Allora guarda cosa sai cosa faccio Hai bisogno di alluminio? Eh sì uomo Vado a prendertene Tanto Ti devi fare il PC Io devo farmi il PC Quindi mi servono 6 piastra di alluminio Sì No Ah sì 6 Va bene Eh sì Arrivo subito Grazie uomo Questi due pezzettini qua di alluminio Li metto qua nell'angolino cattivi Hai preso il 6 di alluminio? Sì ce l'ha ce l'ha ce l'ha Bravo Tiorlos Così mi carichi troppo Quasi due stack di alluminio Madonna mia Tieni dai Così li sbattiamo assieme Grazie Quante envi l'hai? Allora una Io metto qua Ciao mamma Vabbè ciao Vabbè ciao vado a battere gli altri 3 d'altrove No dai Vado a casa di Martina a battere gli altri 3 rendi conto di come sono messo A deflorare Io ho già abbattuto tutti i 3 i miei eh Anch'io Ah quanto ci hai messo? Guarda che è lento il piccone Ma che io sono veloce eh Guarda che io sono una bestia Io sono bello Bella Allora bomberissimo Dove me ne hai dati? Allora Ma guarda che no Quanti ne hai 5 adesso? 6 frate Ne ho 6 Ne ho 6 frate C'è un lingosto di alluminio qua Vabbè lo abbasso per me Vabbè lei comunque io mi faccio la mia bellissima Luminite si chiama in italiano Ma no ma non si chiama più tra luce una volta Vabbè Poi c'è la nostra vista lampa di redstone Poi noi ci mettiamo sopra la nostra bellissima lastra di Io sto laggando La lastra di Io sto laggando La famosissima lastra Poi ci facciamo il nostro bellissimo PC Che pot Dove lo metto uomo? Dimmi te dove metterlo Allora Guarda qua Guarda qua che posto trash che ti metto Qua No è brutto lì Marco dai Nascostissimo Grazie No dai dammi il mio computer Tirlos non mi rubare le cose Andrea Andrea Guarda che ti arco eh Inizia a bo spammare eh Ma dai Lo metto in cima alla casa Eh si comodo in cima alla casa Sì insomma Vabbè scherzi a parte Dove puoi metterlo? Puoi metterlo nel piano di sopra Ma si lo vado a mettere nella stanza quella con l'healer Nella stanza quella con l'healer Esatto Quindi lo mettiamo qua dai Devi insegnarmi come si usa un pochino il pc Beh non ci vuole un cazzo Beh non c'è niente Lo apri Se vuoi liberare un pokemon Lo selezioni e poi clicchi il cestino Ok ok ho capito Va bene ok va bene Vabbè buon tiro Grazie per il tutorial E io direi Ho visto che abbiamo già griffato un pochino la casa degli altri Abbiamo fatto il nostro bellissimo pc Volevo fare anche la cosa automatica Tu sei capace a farla quella lì? Sì hai un pezzo Hai una slime ball Allora eh l'unico dilemma Scampo di destra abbiamo una slime ball Mi sa di no Pazzo Allora sai cosa Mi sa che se andiamo nella palude Ok Quante cocche cotte però Ehi uomo Ma io ce la vuole a farmi finita Ah giusto Ah è vero Hai uno di ferro Hai... Cioè hai uno di ferro e uno di redstone Ce l'hai il ferro uomo Sì Andiamo vabbè andiamo Andiamo un attimo a prenderci un caverno Allora Allora facciamo così Uomo vieni con me Ti porto in una palude Nella palude potrebbero esserci pokemon Che ti do poi non è slime ball Nella mia testa Poi magari mi sbaglio eh Nella tua testa Cioè ragazzi dici Sì sì secondo me Eh in quel senso Sì sì Questo qui Abbattilo con rapida Così aggressivo? Minchia ma allora Devo centrare l'ombra vero? No 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 devi colpire lui Ma io so poi che tipo devo centrare l'ombra Io sono stra... No Ok perfetto Allora Sei entrato in battaglia con chi? Sì 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 Con duogen o con gold? Con duogen Ok a posto Ok perfetto Shottato Sì Ti hai dato la slime ball Me l'ha data? Sì perfetto me l'ha data Ottimo Fantastico Perfetto C'è un Mr. Mime Dove? Fuori di casa Ah sì Non si vede neanche che livello sia È vero Provo a combatterlo con rapida Allora è al 44 Gatti fila per sei con il resto di due Poco bomba aggressivo Andi col poco bomba Vediamo un po' Lo catturo Si sta simpatico Mr. Mime Si è tenero Mr. Mime Mi è sempre piaciuto a me un sacco Tenero e Mr. Mime Non sono due parole che vanno nella stessa frase Vabbè però mi piace perché c'ha il faccino tenero Mr. Mime Mi piace un sacco Vabbè scusa Ma come cazzo mi metti? Scusa scusa Oh i capezzoli a forma di mudkeep E' a forma di mudkeep E' a forma di mudkeep Che non vuole essere catturato questa bestia E io mo' ho uccido Non mi esprimo Ti ha sciuttato lo Squirtle? Lo Squirtle ha ucciso Mr. Mime? No, in peggio Ha usato un botto in testa Ha preso il contracolpo e è morto Sta merda Sta merda Mi ha sciuttato Squirtle Ah ok Non mi si permette Io chiamo il 118 Il nostro bellissimo pistone Però non legno Quindi prendiamoci il nostro bellissimo legno Qualcuno ha fatto tornare in vita i suoi bellissimi pokemon di merda Vero Tirlos Non ti permetti Non ti permetti Allora le sbarre di ferro è come se dovessi fare dei pantaloni Ok Poi metti Un Pistone appiccicoso al centro Ok E la fornace sotto E scusami ma vado a catturare quel fortress Meccanical anvil Ok perfetto Bomba Bomba Io la piazzo su nella casa dove ho il computer quasi quasi sai Piego hai bisogno Metto le piedi sopra la metto No anzi no scusami 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 Vedi qua Dimmi vai Facciamo così Metti un baule qua sotto Ok Quindi un baule Detto così baule però mi stende Un baule Si chiama baule in italiano Qui la tramoggia Ah no ma aspetta un attimo Non c'ho più la macchina Ce l'hai te vero? Si ce l'ho io ce l'ho io Mi sono cagato in mano Ok Madonna Poi metti sopra il dropper quella Il macchinario Ok Ok ottimo Poi vai a mettere due dropper ai dati che puntano verso il macchinario Ok quindi Tac Uno e dall'altro lato anche Tac Perfetto E poi metti due chest qua sopra Ok così easy Si si E in pratica in questo Però il fatto è che adesso non hai accesso alla chest Beh faccio la metto qua Quindi dovresti Cioè È un po' bruttino da vedersi Però magari se metti una scala Si ovvia il problema Vediamo Scusi mi carichi però eh Tu c'è le scale quante scale hai uomo? Due Ok mettine una Ok così si scende Qua da una parte metti il carbone Dall'altra metti i dischetti che ti servono E poi hai fatto tutto da solo Cioè in una chest metti un carbone Ok Ok Ah perché poi pensa lui a schiacciarle tutto Dopo lui fa in automatico tipo se Lui riempie entrambe le parti Tipo se qua metti il carbone Allora Di là metti le cose schiacciate La L'embre automatica fa tutto Allora aspetta di qua io metto il carbone Si E da l'altra E di qua metto i dischi giusto? Si Ok vediamo quanti Io ho qua un foto di dischi quindi possiamo provarlo Ok Ok capito Quindi qua io mi trovo i dischi direttamente fatti Ok Esattamente Figo E questa cosa è una figata Molto molto figo Poi mi piace un botto anche L'animazione è vero L'animazione E' un sacco bella Vabbè dai uomo Io direi andiamo un pochino in esplorazione Che devo fare Attimo che voglio cambiare i pokemon Ciao perché voglio prendermi un nuovo pokemon figo Tirlos Tirlos con me Tirlos con me Vieni giocare con me Ti manca No Ciman Cos'è soffossato? No ok niente Si ma guarda che qua è pieno di buchi Lo so che cazzo faccio Si ma la gente perché inizia a scavare robe merda E quindi Non sa cosa fare Ma che voglia Tipo qua guarda qua Dai spingimi Che è l'assassino Spingimi Dai E dai E dacce Sai che mi potrei morire Cretino Dove stiamo andando Marco? Non lo so Non lo so Ma perché stai scendendo io? Ho sbagliato solo a scendere prima Eh la merda Guarda che stai volando Altro spoiler Vabbè dai andiamo qua Cosa? Oddio Scendere Oddio 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 Tu sei qui, dici, io voglio Sì, voglio ucciderti, frate Però non mi fa vedere l'animazione del combattimento Vediamo Pistola acqua Vado ad abbatterlo io, ti No, 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 no Dio santo, quanto fa cagare il mio squirtle Ciao, Tierlos Ciao, amore Ciao, Tierlos Ciao, bellissimo Eccoci qua, eccoci qua L'hai voluto te Ti piglio col martello in diamante Oh, perché togli Marco e me ne hai tolto sette cuori? Il martello non mi ha tolto assolutamente nulla Deve stai scappando? Perché stai scappando? Paura di te No, oltre al 100 Pokémon devastato C'è una sorta di Extreme Heals Ok, potremmo andare là Ma io c'ho Io c'ho, aspetta Io c'ho il Del Pidgeot Vediamo se c'ho Waypoint Aspetta No, non è Pidgeot No, non ce l'ho più Avevo Waypoint che era andato con un buon tech E non è streamista vero figa Tierlos, ti vedo Ciao, guarda Ci sono i Pampi I Pampi Ciao Pampi Dov'è Geodude? Ho trovato anch'io L'ho trovato anch'io Eccolo qua C'era un Geodude diverso Ciao Bomber Dove corri? Bravo, Bomberissimo Oh, Meri Bravo Squirtle Bravo, ancora Squirtle Super efficace Minchia, gli manca un Ciccinin Gli manca Madonna, è un parto Far partorire sto parto Un Charmander Non puoi catturarlo Lo so, provo io a combatterlo Voi fare il mio Squirtle con Charmander Vai Squirtle Gli manca pochissimo Pissa d'acqua Vai Bomber Vai Bomber Sta salendo Morso Il Morso io lo faccio imparare A posto di ritirata No Sì Vai Squirtle Ma Shackle di merda Che figata Che figata Si stavo volendo Esatto, si stavo volendo Buon Dio Aspetta, voglio vederlo No, corri Corri Non ce la faccio mai E ormai ho artolto Eh vabbè Sì però che due coglioni Sto sacco del cazzo Così, me lo vedi Ti rossi Marco Cioè è la terza volta di fila Che arriva ad avere uno di vita E usa riposo E si recupera tutto Che bello è Ti È bellissimo Vieni a vederlo Ti prego Aspetta un attimo Oh è morto Ci ho fatto Ti vedo, ti vedo, ti vedo Dove sei? Qua, davanti a te Vito di te Guarda, ciao Tiernos Ciao Tiernos Ciao, fammelo vedere Tiralo fuori Bam Che figo è È bellissimo È un po' piccolino Ma è carino È troppo tenero Warthornal Warthornal Vabbè dai Per questo secondo me Episodio abbiamo fatto un pochino Di cose ignoranti Uomo ci sta Sì, vuoi catturare un Pokémon a Muzzo? Dai andiamo in giro a catturare Un Pokémon a caso Facciamo così L'eroe della settimana Lo chiamerò Un Pokémon ignorante Li catturerò con qualcuno Vai Vai, va bene Ti sta Ma lo combatto Con il mio bellissimo Warthornal nuovo? Ma sì Io li tirerei direttamente La Pokéball Ah, proprio così aggressivo Vabbè dai Slowpoke Me da Me da Me da Me da Vediamo Uno Due Due No, esce Esce Io ne provo un altro Io Ci provo No, me da Se me lo fotti Ti stacco la terza Uno Due Non è uscito Esce, esce Aspetta eh Questa qua è quella fortunata La terza è sempre quella Dove è finita? Ma perché è finita? Preso Ti picco con una torcia Quindi ragazzi Per questo video di un account Spero che vi sia piaciuto Il video di un prossimo episodio Da Pixelmon Da Mark è tutto Passate al canale Buon tierless In descrizione Perché vi saranno Solti un po' di spoiler Poi uscirà il suo episodio Lunedì Vero uomo Dico lunedì Ok, perfetto Lunedì uscirà il suo venissimo episodio Noi ci vediamo In un prossimo video Della Pixelmon Se muoio Io ti stacco la testa Da Mark è tutto Buon tierless È tutto Warthornal Bye C'è uno snoglax Ok Grazie a tutti Grazie a tutti